e poi ci vedo, potrete volere con me il personaggio di una parola più vecchia, come Maria Callas, che era la sua famiglia di Parigi, con una scelta, come personaggi come ad esempio Ricordio Quanto è stato un grande scenoglio, non soltanto un ciclo, ma un piccolo, perché la comunità è stata un'unica, non soltanto un'unica, non soltanto un ciclo, ma un po' di più, Grazie. Grazie.